Nella splendida cornice veneziana il comandante del TPC nazionale e il comandante del nucleo di Venezia del Tutela Patrimonio Culturale hanno partecipato alla giornata inaugurale di un progetto patrocinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Esiste una joint venture tra i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e l'Istituto Rinomato Italiano per le Tecnologie ha lo scopo di migliorare e implementare le capacità informatiche e telematiche in materia di contrasto ai traffici invece di opere d'arte.